No, non siamo ancora nella grande squadra, ma abbiamo fatto vedere i passi in avanti su questa costruzione di una testa solida, di una mentalità, di una personalità. La squadra è giocata con personalità, perché quando ha sbagliato pallani in mezzo gli si era chiesto questo, ha continuato a palleggiare e a provare a entrare dritto per dritto, gli si è chiesto di provare a forzare qualche giocata e ci si è perso palloni, gli si è chiesto di stare in equilibrio fino al novantesimo senza perderlo mai, al di là di quello che succedeva in campo e c'è stata e l'ha dimostrato perché personalità vuol dire anche a un certo punto si va lì e si porta via la partita, si porta via la vittoria. Come si fa? Come si fa? Non lo so, però si va lì e si porta a casa. Poi si vedrà in fondo all'anno quante squadre ci vincono, è vero che ci è venuto il Milan però per le condizioni, in Milano probabilmente dopo 5 minuti in 10 contro 11 è un'altra partita.